Maria Luisa Cerale, direttore di Confagricoltura Torino, studenti in cascina, percorsi di formazione e lavoro, parliamone. Buongiorno a tutti, Confagricoltura Torino da anni segue questo percorso in abbinamento e col patrocinio della Camera di Commercio di Torino per la promozione del lavoro della terra nell'ambito scolastico, perché? In modo che anche i ragazzi si rendano conto della realtà diretta, non solo studiata. Noi abbiamo questo percorso ormai da più di cinque anni, passiamo proprio dalla realtà agricola tradizionalmente detta all'alta tecnologia, agricoltura 4.0, sempre in orientamento e senza mai sottovalutare i cambiamenti climatici, il benessere animale e tutto quanto comporta il mantenere il criterio della natura e della terra. Sì, credo che sia un percorso, una tendenza sempre più forte, quella di avviare i ragazzi a un'esperienza proprio pratica. Poi si parlava di cambiamenti climatici, un'esperienza pratica che si è sempre più votata anche alle tendenze future. Sì, il futuro. La scuola porta i ragazzi al futuro, l'educazione di base parte dalle famiglie, ma tante volte i ragazzi non hanno la cultura della campagna, della tradizione agricola. Vedo proprio accompagnandoli presso le nostre aziende, quindi l'eccellenza di Confagricoltura, i ragazzi stupiti nel vedere la terra, la creazione della messa a terra di un seme, l'evolversi, tutto quanto fino ad arrivare al prodotto finito che arriva poi sui banchi di vendita. E quindi sia analizzando l'allevamento, sia la coltivazione e l'allevamento delle piantine. Loro sono proprio stupiti di questi procedimenti e di questi processi, non li conoscono affatto. Quindi dalla realtà dei libri alla terra che è fondamentale.